Quasi 90 anni, una vita in prima linea per i diritti degli indigeni e per la conservazione della foresta amazonica in Brasile. Il leader Raoni Metuktire ha lasciato la sua casa nella riserva Xingu ed è stato ricoverato dopo aver sofferto per diversi giorni di dissenteria e disidratazione. Il nipote del capo indigeno ha riferito che Raoni è stato sottoposto al test per il nuovo coronavirus nell'ospedale di Collider City, a 370 km dalla riserva, ed è risultato negativo. Il capo indigeno si è battuto per decenni per la protezione dei territori pluviali. Un documentario del 1978 ha contribuito a renderlo famoso, così come un tour del 1989 con il musicista Sting.